Vuoi migliorare il benessere psicofisico della tua persona? Ho ciò che fa per te! Studio medico Dottor Gino Ferroni Medicina estetica Epilazione laser LPG Lipodren a infrarossi Fisioterapia Magnetoterapia Tecar Ultrasuoni Ionoforesi TENS Laser Onde d'urto Lo studio medico Dottor Gino Ferroni si trova a Bastia Umbra, Perugia, in via Firenze, numero 51 Telefono 075 800 16 08 Ferroni Gino 60 Chiocciolina gmail.com Amici carissimi dell'Umbria vera e di Giada, salve a tutti! Un nuovo appuntamento con pillole di saggezza e ringraziamento va sempre al Dottor Gino Ferroni, medico esteta. Oggi con il Dottor Gino Ferroni parleremo di dieta chetogenica. Grazie Giada, ripeto, sempre molto gentile per questi minuti che mi dedichi nella tua trasmissione. Oggi parliamo di dieta chetogenica, abbiamo parlato la volta scorsa del digiuno, abbiamo parlato tempo fa di un'altra dieta di iperproteica. La dieta chetogenica è una dieta che in questo periodo viene fatta da tante persone perché si esce dal periodo invernale dove uno ha accumulato qualche chilo, la cosiddetta pancetta, e con il periodo primaverile uno prova a rimettersi in buona forma. Come io sempre insisto, non è molto semplice rimettersi in forma, ci sono tanti tanti fattori che devono entrare in gioco, soprattutto è il movimento, l'attività sportiva e anche le correzioni alimentari. La dieta chetogenica in questi giorni se ne è parlato su alcune trasmissioni e quindi faccio un piccolo chiarimento. È una dieta che elimina quasi completamente i carboidrati, per quasi intendo che si riduce la quantità a meno di 50 grammi al giorno, alcuni studiosi, alcuni nutrizionisti, meno di 30 grammi. Secondo me sotto i 30 grammi diventa troppo difficile, io consiglio intorno ai 50-60 grammi di carboidrati di lasciarli. Perché si fa questa dieta? Perché il glicogeno è la principale fonte di energia del nostro cervello. Se manca il cervello che fa, innesca un meccanismo per prendere energia dai grassi, questi grassi che si sono accumulati appunto durante il periodo invernale. Come fa? Stimola la produzione di acetil-coenzima A, il quale per un meccanismo che non sto qui a spiegare perché entriamo nella biochimica, rimuove questi dei corpi ketonici. Sono l'acetone, l'acido acetacetico, l'acido beta-idrossibutirrico, nomi tutti strani che non ha senso continuare a dirne altri. Questi corpi ketonici forniscono energia al nostro organismo senza intaccare la massa muscolare. Quindi non bisogna pensare come alcuni pazienti mi dicono, ma dottore io vado in palestra per tonificarmi, mi dà una dieta che naturalmente mi distrugge la massa muscolare? Assolutamente no. I corpi ketonici vengono prodotti e hanno anche un doppio scopo. Oltre a quello a fornire energia, dopo 4-5 giorni, che uno è entrato in chiamiamo in ketosi, c'è anche meno appetito. Il primo giorno l'appetito è anche maggiore perché manca lo zucchero, quindi l'organismo va a consumare 70-80 grammi che è a livello epatico. Poi il secondo giorno si mobilizzano un po' di zuccheri, il terzo giorno si ha meno fame e si innesca questo meccanismo. Come dieta non è una dieta difficile da fare, però bisogna avere delle accortezze perché se dopo 4-5 giorni, il venerdì, faccio un esempio, l'iniziatore di lunedì, si iniziano a mobilizzare i grassi, non si può andare il sabato sera a farsi una pizza con 4 bruschette. Non si può andare la domenica a farsi le tagliatelle o naturalmente la mangiatina fuori porta e poi prenderci anche il dolce, se non il gelato o il caffè, perché bisogna stare sotto i 50 milligrammi. E' difficile perché gli zuccheri sono nascosti dappertutto. Basti pensare che la panna, anche la maionese, contengono degli zuccheri. Quindi non si può dire che prendo il caffè amaro e ci metto sopra della panna. Lì contengono degli zuccheri. Se uno la fa, deve fare questo schema alimentare, questa dieta, sotto controllo, consiglio medico, farla con attenzione, ma almeno per 21 giorni o 28 giorni, il periodo che io consiglio, deve essere una cosa molto, molto ferrea. Non sono ammessi sgarri. Ecco, quindi fatela tranquillamente, però state attento a non farla così. Tanto perché uno ha letto qualcosa, perché si hanno dei grandi insuccessi. E quindi ciò che uno aspetta, il perdersi anche 2-3 chili su una settimana, 7-8 chili su un mese, si possono fare. Basta mangiare una pizza, 70 grammi di carboidrati, 4 fette di pane, che sono altri 100 grammi di carboidrati. E' inutile, non va neanche iniziato. Non so se ci sono domande, Giada, ti passo un attimo il microfono. Sì, dottor Ferroni, ci sono due domande. Una che ci chiede se crea ketoacidosi, e l'altra signora ci chiede se è facile da fare. Allora, come già prima ho accennato, è una dieta abbastanza impegnativa, facile da fare, sì. Perché si fanno i soliti tre pasti, due piccoli spuntini, di proteine ne abbiamo delle migliori. Possiamo prenderle dalle uova, dal pollo, dal tacchino, dal coniglio, qualsiasi. Abbiamo tanti legumi che possono fornirci il giusto apporto proteico. E quindi privarsi di un po' di dolce per 20 giorni, o mangiare un po' di pasta, penso che non sia una cosa molto difficile. Però ecco, bisogna stare attento a non fare degli sgarri. La ketoacidosi, no, non si va in ketoacidosi. La ketoacidosi è una complicanza dei pazienti con diabete di tipo 1, pazienti che magari hanno sì la glicemia talmente alta, ma questi zuccheri non vengono utilizzati perché il pancreas non produce l'insulina. Quindi è chiaro che possono formarsi tanti, tanti di quei corpi ketonici, quindi si va in astenia, si possono avere delle crisi lipotimiche, intendo, diciamo, crisi lipotimiche e semplici svenimenti, o naturalmente fino al coma, ma sono pazienti, diciamo, con patologie molto, molto serie che non è che fanno questo tipo di dieta. Grazie Giada per la tua attenzione. Grazie a lei, dottor Gino Ferroni. Vi ricordo che lo studio del dottor Gino Ferroni si trova a Bastia Umbra, in via Firenze, numero 51, telefono 075 800 16 08, cellulare 335 43 45 84. Il centro estetico progetto Immagine, oltre al solarium, lettino e doccia, è all'avanguardia per quanto riguarda trattamenti di manicure, pedicure, trattamenti viso, ricostruzione unghie, trucco sposa, depilazione, temporanea e definitiva, e anche centro di dimagrimento. Il centro estetico progetto Immagine si trova a Bastia Umbra, Perugia, in via Firenze, numero 51, telefono 075 80 11 351.